Mi piace tutta l'arenella, è molto ricca, c'è un grandissimo cuore all'arenella, è solo che ancora tanti non lo sanno, ma c'è un grandissimo cuore, va sviluppato tutto col mare. E non lo dico io, infatti la maggior parte vogliono una casa al mare, perché vogliono una casa al mare? Loro non se ne rendono conto, ma è così, vogliono tutti la casa al mare perché mare è energia, ma l'energia ti dà quell'energia che in città non la puoi avere, è questa la verità, per questo cerchiamo tutti il mare, quindi per questo mi piace di più questo punto, perché ho amato sempre la casa di fronte al mare.